Una bellissima domenica per voi in campo, ma io direi anche sugli spalti, perché si è rinnovato questo gemellaggio tra le tifoserie ed è sempre bello quando il pubblico comunque applaude chi vince e chi perde. Certo, certo è stato bello, ma dovrebbe essere sempre così. Sono stati speciali entrambe le tifoserie, i facci complimenti a entrambe le tifoserie. La partita? Bisogna essere così. La partita sono un po' incazzato, si può dire. Addirittura dopo un 3-0? Sì, sono un po' del gemellaggio bello, come ti ho detto. Sì, dobbiamo gestire meglio, bisogna gestire meglio perché all'intervallo gli avevo detto che bisognava stare attenti perché non è che giochi in inferiorità, la partita è semplice. Abbiamo preso un po' sotto camba, abbiamo iniziato il secondo tempo, per 10 minuti siamo praticamente spariti dal camba, non bisogna farlo più. Io l'ho detto pure ai ragazzi, poi la partita è stata giocata, l'abbiamo fatta, abbiamo palleggiato bene. Quando andiamo di là creiamo veramente dei grattacapi. Però siamo contenti, sono contento per i ragazzi, per la società, per i tifosi. Stiamo bene, facciamo le cose che dobbiamo fare, le cose giuste e si vede i risultati che arrivano così a caso. Se fai le cose giuste arrivano e loro stanno facendo le cose giuste. Ha ricordato lei un po' in affanno nei primi minuti della ripresa, poi c'è stata l'altra espulsione di Vittorio Esposito, naturalmente vi ha un po' agevolati sicuramente ulteriormente. Sì, sicuramente, poi la partita magari si è messa un pochettino meglio, però la partita la stavamo giocando, abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto un'occasione per rifarlo, loro mi sembra che non hanno mai tirato in porta, hanno palleggiato tanto, siamo stati bravi a chiuderci e a fare le cose che sappiamo fare, perché io avevo visto la squadra a Riccione, questa è una buona squadra, la squadra che palleggia bene, squadra pericolosa, con un ottimo attaccante, però abbiamo fatto bene, tranne quei dieci minuti del secondo tempo dove bisogna cancellarli, perché se prendiamo gol poi diventa dura. Uno dei perni della difesa con Son, purtroppo è stato ammonito e salterà il derby di Notaresco perché era diffidato, è una tegola, come si dice in questi casi per voi. Tanto pure Mercurio era diffidato, bisognava saperlo, ho cercato di farlo giocare, anche se era diffidato, perché è giusto che chi è giocatore, pure i diffidati giocano, però l'ammunizione viene, è un difensore, la presa al limite dell'arica ha dovuto far farlo, però chi sostituirà con Son sarà all'altessa sicuramente. Prima di questa partita la zona playoff era a 4 punti, ora siete a 2 punti, lei non la guarda mai la classifica, però questi sono i fatti. Sinceramente non so niente, non so neanche i risultati, però bene, significa che stiamo facendo bene, lì davanti magari non stanno correndo tantissimo, però come hai detto tu domenica c'è un derby, partita difficilissima, so che hanno perso, so solo i risultati di Notoresco sinceramente. Quello vi interessa, almeno adesso. Sì, so che hanno perso, vengono da 3-4 sconfitte, perciò troveremo sicuramente una squadra arrabbiata. Comunque può essere un obiettivo, anche se anche il vostro calendario, oltre al derby è abbastanza difficile, avete 3 trasferte e poi c'è il campo basso in casa. Andiamo su campi difficili, Notoresco è difficile, andiamo a Monte Rotonda che è in salute, una signora squadra che sta facendo molto bene, un ex giocatore che allena lì, trasferta di Matese l'ultima, non si sa se già sta dentro, è dura, però viviamo la giornata, partita dopo partita. L'ultima davvero, Luiso, siete usciti tra gli applausi, era inevitabile dopo questo 3-0, tra l'altro, a parte la prima partita, lei era appena tre giorni arrivato qui a Chieti, quindi magari non è riuscito a trasmettere, c'era lei però appena tre giorni prima era arrivato, a Fano c'è stato il tracollo 5-1, però poi quasi percorso netto, quindi questo è anche merito suo e anche la tifoseria l'ha applaudita a lungo. No, 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 ma il merito è dei ragazzi, perché noi facciamo le cose giuste. Fate le cose semplici. Le cose semplici, bravo, ma mi seguono, io percepisco questo, loro credono in me, perché io sono leale, gli dico le cose che vedo, che gli devo dire da ex calciatore, battezzo subito la cosa, la battezzo prima, perché io sono stato un calciatore, gli dico sempre io sono stato seduto lì dove state voi, loro credono molto in me, perché mi guardano negli occhi, mi seguono e hanno una carica incredibile. E dopo Fano si è toccato il fondo e l'hanno capito e io gli dissi, devo rimanere, ho me ne vado subito pure io. No, no, mi sa lei, devi rimanere con noi perché ne vogliamo uscire. E stanno dando risposta. Però, come ti ripeto, noi facciamo, io faccio le cose che devo fare, le cose semplici, io non mi invento niente, faccio le cose giuste. per il bene della squadra e di sto pubblico, perché tu devi fare le cose giuste, non ti devi inventare niente, perché oggi il calcio è talmente semplice che non ti devi inventare qualcosa. Un Peppe Guardiolo ce n'è uno, il resto penso che siamo tutti uguali. Peppe Guardiolo è un altro pianeta, a cui ci tengo a precisare questo. E poi nel calcio bisogna vincere, le ghiacchie si riportano il vento.